Sono Lisa Varga. Ho 40 anni. Questa sono io più di due anni fa. Ancora non ho fatto interventi di chirurgia estetica e ancora non mi spaventano i primi piani. Avvicinatevi. Più vicino. So che per avere 42 anni sembra che mi sia rifatta, ma il merito è dell'apparecchio a radiofrequenza Dermawand. Ho iniziato ad usare il mio Dermawand più di sei anni fa perché dà risultati reali. E parlando di risultati, guardate cos'è successo quando ho invitato queste donne a provare Dermawand per la prima volta. a sperimentare i nuovi e rapidi risultati di Dermawand. Oh mio Dio, è davvero pazzesco! Dermawand ha decisamente trasformato la mia pelle. Adoro la follia, Dermawand. Questa è Lori dopo averlo usato la prima volta. Gli zigomi appaiono sollevati, con il contorno ben delineato. Le linee d'espressione e le zampe di gallina sembrano svanite. Le linee tra il naso e la bocca sono meno pronunciate e le rughe sembrano quasi scomparse. Mi fa impazzire il mio nuovo aspetto. Il mio viso è così fresco e leggero. Adoro sentirmi così. Dermawand mi ha reso viva. Ora sono una bomba. Ho un aspetto davvero incredibile. Guardate l'aspetto incredibile del viso di Mayra nella foto dopo aver usato Dermawand soltanto una volta. Dermawand è di sicuro il numero uno. È il mio migliore amico per la vita. Guardate gli occhi di Natalie. Nella foto, le sopracciglia appaiono molto più alte e lo sguardo più aperto e disteso. Questa è Natalie prima di usare Dermawand. Raccomanderai Dermawand a tutte le mie amiche. Dermawand è un miracolo. Tutte dovrebbero averne una. E ora sentiremo il parere di un gruppo di donne che utilizza Dermawand da più di dieci anni. Credetemi, tutte oggi hanno un aspetto migliore di anni fa come potete vedere in queste foto. Questa sono io circa otto anni fa. Sì, ecco. Oh, sì! Oh, è terribile! Ecco com'ero ed ecco come sono ora. Mi guardo allo specchio ogni giorno e noto quanto la mia pelle si è incredibilmente migliorata in questi 12-13 anni di trattamenti con Dermawand. La pelle è radiosa, soffice, così incredibilmente morbida e liscia al tatto. E il merito è soltanto di Dermawand. Può davvero aiutarti. Può aiutare uomini e donne. Contrasta il processo di invecchiamento donandoti un aspetto più giovane, un aspetto più sollevato, un aspetto più tonico, più rilassato, più in forma, distendendo a fondo qualunque linea d'espressione e qualunque ruga tu abbia. Direi a tutte le donne che stanno valutando di comprare Dermawand di non aspettare. Ogni giorno che aspettano, invecchiano di un altro giorno. È economico, è efficace, è sicuramente uno dei migliori apparecchi che abbia provato perché... funziona. E la cosa davvero incredibile è che usando Dermawand sono riuscita ad ottenere un aspetto migliore e più giovane di quanto lo fosse anni fa. E se seguirete le semplici indicazioni di Dermawand, anche voi potrete ottenere risultati favolosi come questi e apparire di molti anni più giovani con Dermawand. E la creatrice di Dermawand, Cristina Boves, ha dimostrato di poter tornare ad avere l'aspetto di quando aveva 42 anni usando Dermawand solo su un lato del suo viso. Su quel lato le linee, le rughe e le pieghe appaiono diminuite. Infatti tutta l'area intorno agli occhi appare più aperta e sollevata. Le borse sono migliorate, le linee tra il naso e la bocca si sono attenuate e i pori si sono rimpiccioliti. Il lato del viso su cui ha usato Dermawand è migliorato. Ecco Cristina 18 anni dopo. Ha 60 anni, senza aver fatto alcun intervento chirurgico, appare più giovane e ha un aspetto fantastico proprio come la mia amica Stella Riches. Stella è la nostra esperta Dermawand. Vi mostrerà in diretta i risultati che potete ottenere con Dermawand. Questa sono io due anni fa, allora non avevo neanche una zampa di gallina. Ora ho 52 anni e ancora non ho neanche una zampa di gallina. Coraggio, avvicinate la telecamera. Neanche una, giusto? È perché uso il mio Dermawand ogni giorno in quest'area. Ora lasciate che vi mostri in diretta, senza alcun taglio delle riprese o effetti speciali, come usando Dermawand ogni giorno, Julie abbia reso più giovane il suo viso. Lei è Julie? Hai lavorato come modella per quanti anni? Più di 30 anni. 30 anni? Ok, ora Julie ci mostrerà come Dermawand effettui una stimolazione istantanea sulla zona delle palpebre. Poi continuerà ad utilizzarlo solo su un lato del suo viso. Continua Julie. Insisti su quel punto. Oh, noto già dei risultati. Da quanto tempo usi Dermawand? Da più di 8 anni. E sai, la mia pelle è molto più fresca adesso a 53 anni di quando ne avevo 33. Oh, fantastico! Guardate il sopracciglio di Julie. Sembra davvero più sollevato. E osservate anche l'intera area intorno all'occhio. È molto più aperta. La differenza è evidente. Ma osserviamo più da vicino anche le altre zone del viso come potete notare. Niente zampe di gallina. Credetemi, se volete ridurre la comparsa delle zampe di gallina, dovete assolutamente usare Dermawand. Guardate il sottomento e le guance di Julie. Guardate gli angoli della bocca. La sua pelle appare tonica e luminosa. E pensate che Julie è stata una fumatrice per oltre 20 anni. Dermawand ha ridotto al minimo quelle piccole linee verticali intorno alle labbra causate dal fumo. La sua pelle sembra rinata. Se confrontiamo l'immagine di Julie prima e dopo il trattamento, notiamo subito la differenza. È questo l'effetto della radiofrequenza di Dermawand. Riceverai Dermawand, l'astuccio e lo speciale DVD per un valore totale di 240 euro. Ma se chiamerai durante questa speciale offerta televisiva, pagherai solo 99,90 euro per il tuo Dermawand. Ma devi chiamare ora. Pensa, 10 anni in meno grazie a Dermawand. E ricorda, bastano 3 minuti di trattamento al giorno. Chiama adesso, non hai assolutamente niente da perdere a parte le rughe e le linee di espressione. Lascia che l'efficacia della radiofrequenza, se usata direttamente sulla parte da trattare, ti permetta di ottenere l'effetto di un lifting senza ricorrere alla chirurgia. Mentre tonifica, rassota e ti dona una pelle molto più giovane. Chiama adesso, oppure vai sul nostro sito. Non c'è da meravigliarsi perché ormai è noto a tutti che la radiofrequenza sia uno dei metodi più efficaci per ridurre i segni visibili dell'invecchiamento prematuro. E questi grandi apparecchi a radiofrequenza funzionano perché creano energia termica e stimolazione muovendo microcorrenti nello spettro radio. Ma solo medici e specialisti possono usarli. I trattamenti sono costosi e occorrono molte sedute per ottenere risultati. Non sono pratici per un uso quotidiano. Con Dermawand abbiamo utilizzato la stessa tecnologia in un apparecchio più piccolo che, allo stesso modo, genera stimolazione ed energia termica, ma ad una frequenza ed ampiezza inferiori ed è perfetto per essere usato a casa. E la cosa più bella è che vi farà risparmiare migliaia di euro in trattamenti con apparecchi professionali. Anche la delicata microcorrente di Dermawand è mossa nello spettro radio e stimola la pelle generando l'effetto di un massaggio. Il massaggio aiuta a migliorare la tua circolazione apportando ossigeno, sangue e nutrienti vitali alla tua pelle. In secondo luogo, la delicata microcorrente genera energia termica sotto la superficie della pelle e aumentando la temperatura aiuta la tua pelle ad avere un aspetto più giovane. Dermawand emette anche ossigeno arricchito. Ha la stessa fragranza dell'aria fresca e pulita dopo un temporale. Dona alla tua pelle una vera sensazione di freschezza e Dermawand aiuta a ridurre la grandezza dei pori. Nel mio lavoro ho a che fare con la pelle ed è sorprendente la differenza tra i pazienti che usano Dermawand regolarmente e coloro che invece non ne fanno uso. E Dermawand ha una punta speciale. Usatela ovunque abbiate una pelle rovinata e poco attraente il collo il mento le guance la fronte gli occhi le linee verticali intorno alle labbra il petto la parte posteriore delle braccia e anche quella delle gambe. Inoltre Dermawand funziona su ogni tipo di pelle. E non dimentichiamo gli uomini potete usare Dermawand ogni giorno e ringiovanire il vostro viso anche se vi siete sottoposti ad interventi chirurgici o a iniezioni è necessario effettuare dei trattamenti di radiofrequenza come programma di mantenimento e Dermawand è perfetto per questo. Sono sicura che vi state rendendo conto che il lifting facciale senza chirurgia svolto da Dermawand può davvero fare la differenza. Spesso le persone mi chiedono è troppo tardi per la mia pelle? No non è mai troppo tardi vi spiego cosa voglio dire lei è Barbara ha 65 anni la sua pelle era danneggiata nell'area del mento e del collo vediamo come adesso la sua pelle appare distesa alla base e intorno al collo e anche il mento ha un aspetto totalmente diverso ecco i risultati incredibili che la tecnologia di radiofrequenza di Dermawand può garantire mi piace come appare la mia pelle già dopo un solo trattamento immagino che dopo sei settimane stenterò a credere ai risultati ho 65 anni e grazie a Dermawand ha un aspetto fantastico la verità è che prima cercavo in tutti i modi di nascondere il mio viso ma adesso non più donne sono passati due anni dal mio primo show Dermawand e ora a 42 anni mi sento e appaio molto meglio che anni fa grazie a Dermawand avete visto le foto prima e dopo il trattamento avete sentito la testimonianza di chi l'ha usato avete visto Cristina Boves la creatrice di Dermawand oggi sembra più giovane che 20 anni fa vi abbiamo mostrato che è usato sulla parte Dermawand può darvi un aspetto tonico e più giovane di molti anni avere un aspetto giovane ha davvero fatto la differenza nella mia vita per questo voglio che ordiniate il vostro Dermawand oggi testate personalmente l'efficacia di Dermawand quindi chiamate o andate sul sito e ordinate il vostro Dermawand vi piacerebbe acquistare un aspetto più giovane con un apparecchio di radiofrequenza da usare comodamente a casa Cristina l'ha usato su un solo lato del suo viso e guardate che differenza qui aveva 42 anni ed ecco Cristina oggi 18 anni dopo senza alcun intervento chirurgico ha un aspetto tonico sollevato e fantastico a 60 anni vi piacerebbe tonificare tutta l'area attorno al mento e al collo? Barbara l'ha fatto e ha 65 anni vi piacerebbe ridurre il gonfiore delle guance e le linee sotto il naso? Cheryl l'ha fatto e ha ben 58 anni e vi piacerebbe in pochi secondi distendere aprire e migliorare tutta l'area attorno agli occhi? beh Giulie c'è riuscita e da 53 anni nessuna di queste donne è ricorsa a interventi di chirurgia estetica tutte hanno semplicemente usato Dermawand l'innovazione in materia di cura della pelle con radiofrequenza da usare in casa se usato direttamente sulla pelle vi permette di ottenere gli stessi risultati di un lifting senza ricorrere alla chirurgia bastano 3 minuti di trattamento la radiofrequenza oggi è considerata uno dei metodi più efficaci e non invasivi per invertire i segni dell'età gli apparecchi medici di radiofrequenza funzionano perché emettono energia termica e stimolano la pelle ma solo i medici e gli specialisti possono usarli inoltre una serie di trattamenti con questi apparecchi può costarvi migliaia di euro con Dermawand abbiamo utilizzato la stessa tecnologia di radiofrequenza in un apparecchio molto più piccolo che genera energia termica e stimolazione ma a basso amperaggio ed è perfetto per essere usato tutti i giorni a casa l'energia termica favorisce il processo rigenerativo degli strati più profondi della pelle mentre la stimolazione istantanea di Dermawand con più di 168.000 giri al secondo effettua un massaggio efficace il massaggio apporta ossigeno sangue e sostanze nutritive alla tua pelle e la punta rilascia ossigeno arricchito che rende la tua pelle fresca e giovane puoi usare Dermawand con le tue creme e lozioni preferite e la punta speciale è perfetta per agire su punti difficili da trattare quotidianamente grazie ai tre componenti energia termica stimolazione e ossigenazione per un perfetto lifting facciale senza ricorrere alla chirurgia e per ridurre guance gonfi borse pieghe linea e rughe ricorda una serie di trattamenti di radiofrequenza con quei grossi apparecchi che solo medici e specialisti possono usare potrebbe costarti fino a 3500 euro ma Dermawand non ti costerà così tanto non lo pagherai 350 euro né 300 né 250 oggi Dermawand può essere tua a soli 199,95 euro ma aspetta se chiamerai entro i prossimi 15 minuti te lo sconteremo del 50% un regalo di Christina Bowes l'inventrice di Dermawand potrai testare l'efficacia di questo incredibile apparecchio di radiofrequenza per soli 99,90 euro e per renderti conto della sua efficacia prendi una tua foto recente usa Dermawand per 30 giorni poi scattati una foto e confrontala con l'altra noterai che la tua pelle apparirà più giovane di 10 anni per non parlare di tutti i complimenti che riceverai e ricorda bastano 3 minuti di trattamento al giorno riceverai Dermawand l'astuccio e lo speciale DVD per un valore totale di 240 euro ma se chiamerai durante questa speciale offerta televisiva pagherai solo 99,90 euro per il tuo Dermawand ma devi chiamare ora pensa 10 anni in meno grazie a Dermawand e ricorda bastano 3 minuti di trattamento al giorno chiama adesso non hai assolutamente niente da perdere a parte le rughe e le linee di espressione lascia che l'efficacia della radiofrequenza se usata direttamente sulla parte da trattare ti permetta di ottenere l'effetto di un lifting senza ricorrere alla chirurgia mentre tonifica rassota e ti dona una pelle molto più giovane chiama adesso oppure vai sul nostro sito ho vai Weg vai Grazie a tutti.